Ciao a tutti oggi smontiamo questo Asus che è completamente chiuso così allora il modello è F551C diciamo che ha il solito problema ultimamente mi arrivano con hard disk danneggiati che è un po' possono ancora funzionare però con i bad sector e perciò non vanno molto bene allora facciamo attenzione perché ci sono le viti di varie dimensioni ecco infatti questo anche dimensioni anche diametro lunghezza e diametro tutti i vesci ecco qua insomma mettiamo questi tutto lungo ecco così grandi questi piccolini ecco sembra a posto basta qua non c'è niente da fare dobbiamo girare aspettate che poi ho sposto tutto e 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 dobbiamo staccare la scocca la metto così cominciamo così andiamo avanti facciamo tutto giro ecco e adesso dobbiamo alzarla piano piano senza rompere niente e dopo staccare i cavi che ci sono ecco qua tasto di accensione staccato cerco altri alzo trovo qua il filo touchpad e la tastiera ecco qua così uno due tre staccato ecco qua potrebbe andare bene pulire anche la ventola chi vuole cambia la pasta termica e io sostituisco l'hard disk uno due tre tiriamo così adesso prendo l'hard disk un inter ssd piccolino funzionante e veloce allora vediamo come dobbiamo metterlo e come dobbiamo metterlo così svitiamo qua troviti per liberare cadi ecco qua questa marca è bruttissima non li comprate hgst è già il terzo o secondo in questa settimana ecco qua c'entra tutto ecco qua c'entra tutto ecco qua c'entra tutto ecco qua c'entra tutto grazie a tutti ciao ciao ecco qua c'entra tutto ecco qua c'entra tutto